Accelerano i prezzi dei beni alimentari che aumentano in media del 12,9% con punte massime del 55% per lo zucchero del 44% per l'olio di semi, soprattutto quello di girasole che risente della guerra in Ucraina che è uno dei principali produttori. È quanto afferma Coldiretti Sondrio nel commentare i dati stati sull'inflazione che a febbraio scende in media al 9,1%. Ad aumentare, sottolinea la Coldiretti Provinciale, sono sia i prezzi degli alimentari non lavorati sia soprattutto quelli lavorati che risentono del balzo dei costi di produzione legati alla trasformazione e al confezionamento. Le difficoltà si estendono infatti dalle tavole dei consumatori alle imprese per difendersi dagli aumenti. 8 consumatori su 10 hanno preso l'abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d'impulso, secondo l'analisi Coldiretti Censis che evidenzia come siano cambiati anche i luoghi della spesa con il 72% degli italiani che si reca e fa acquisti nei discount, mentre l'83% punta sui prodotti in offerta e in promozione. La pandemia prima e la guerra poi hanno dimostrato che la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi immediati a un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare, afferma la Presidente di Coldiretti Sondrio Silvia Marchesini, nel sottolineare l'esigenza di raddoppiare da 5 a 10 miliardi le risorse destinate all'agroalimentare nel PNRR, spostando fondi da altri comparti per evitare di perdere i finanziamenti dall'Europa. Sempre nell'ambito del PNRR, Coldiretti ha presentato, tra l'altro conclude Marchesini, progetti di filiera per investimenti dalla pasta alla carne, dal latte all'olio, dalla frutta alla verdura, con più di 50 proposte e migliaia di agricoltori e allevatori, imprese di trasformazione, università e centri di ricerca coinvolti.